Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi una partita eccezionale che ha fatto la storia degli scacchi. Una battaglia stupenda tra Topalov e Shirov, Shirov stessa nazionalità di Talo e guarda caso anche lui è stato uno dei più forti attaccanti di sempre. Ma non solo la partita è stata vincente, anche molto complessa, verrà conclusa con un sacrificio che la farà premiare come una delle partite immortali della storia. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Alessandro, nuovo abbonato alle mie video lezioni che trovate qui sul canale a soli 2,99€ al mese. Una libreria di video, queste video lezioni, che naturalmente cresce mese dopo mese e conta già più di 22 ore di contenuti e quindi vi aspetto sempre più numerosi. Passiamo alla partita giocata nel 1998 al prestigioso torneo storico di Linares. Topalov di bianco, apre la partita con D4, Shirov risponde con cavallo in F6, C4, G6, cavallo in C3 con la spinta D5, entriamo nella difesa Grunfeld. E allora il bianco cambia subito al centro, C per D5 è il cavallo che ricattura, naturalmente. La spinta E4 arriva con tempo e conquista il centro. Il cavallo, guardate, può anche tornare indietro in B6, ma continuazione principale, cavallo per cavallo, il pedone ricattura in C3 e si è formata la classica struttura pedonale del bianco contro la Grunfeld. E allora Shirov gioca al fiare in G7, che naturalmente completa il fianchetto, ma inizia a puntare al centro. Il nero vorrà attaccare il centro, nello specifico il bersaglio diventerà il pedone in D4. E allora Topalov di bianco esce subito dalla linea principale, che è al fiare in C4. Cosa giocherà? Giocherà al fiare in B5 con scacco. Come mai? A cosa serve questo al fiare in B5? La mossa considerata migliore è giocare C6, e quindi questo al fiare in B5 va contro, impedisce, rallenta l'attacco del centro che il nero voleva fare giocando prima C5 e poi anche cavallo in C6. E allora Shirov gioca C6, al fiare in A4 mantiene l'inchiodatura e arriva a rocco corto. Cavallo in E2, per non farsi inchiodare dal fiare in G4, adesso che il nero ha arroccato il pedone, non è più inchiodato, e non solo C5 è giocabile, è proprio la mossa più giocata. Ma Shirov ha altre idee, arriva a cavallo in D7, a rocco corto anche per il bianco, e la spinta centrale in E5. Al fiare in E3 è la continuazione principale, e arriva invece qui la novità di Topalov, che gioca a F3. E allora donna in E7, al fiare in E3 doveva arrivare per forza, perché non solo dà ancora più protezione al centro, non solo sviluppa un pezzo che si doveva sviluppare, va anche a controllare quella diagonale scura, che porta direttamente l'attacco sul re bianco. E allora arriva torre in D8, stessa colonna della donna, per connettere le torri, il bianco e la donna la sposta in C2. Ora, una delle idee tipiche del nero, nella Grunfeld, è l'espansione sul lato di donna. E allora B5, che tutto arriva con tempo, è sicuramente una mossa appropriata, di nuovo Shirov, ha delle idee originali ed interessantissime, perché che cosa fa? Attacca la coppia con cavallo in B6, al fiare in B3, guardate, fortunatamente il pedone si potrà sempre muovere, ma con la donna in C2, la libertà di movimento di questo alfiere è parecchio compromessa. Questo alfiere è quasi bloccato. Allora, alfiere in E6, e ora, se il bianco cambia, riprendendo di donna, non si sciupa neanche la struttura, il nero ha praticamente equalizzato, e allora il bianco gioca torre in A, che va in D1, cavallo in C4, è bella, perché guardate, attacca l'alfiere, guardate, c'è il triplo addirittura, sui pezzi pesanti, oltretutto ha liberato il pedone B, per la spinta B5, A4, A5, per intrappolare l'alfiere. E allora, questo alfiere torna indietro in C1, per poter spingere in A3, liberare l'alfiere, e arriva B5. Topalov, e naturalmente arriverà anche la spinta del pedone A, Topalov non ci sta a subire passivamente, passa subito al contraattacco. La partita si inizia a incattivire, arriva F4, e per D4, ci voleva invece A5, perché Topalov trova la cattura migliore, che non è quella di pedone, riprenderà infatti di cavallo, che attacca l'alfiere, e qui non bisogna perdere queste coppie, alfiere in G4, attacca la torre, e la torre si porta in E1. Di nuovo, oltretutto, non soltanto sulla colonna della donna, ma qui supporterà la spinta del pedone centrale. Allora, donna in C5, attacca per la seconda volta il cavallo, e lo inchioda in maniera assoluta sul re, Topalov semplicemente sposta il re, in H1. Il nero però, non può vincere il pedone, guardate come mai, perché se alfiere per cavallo, e il pedone ricattura, adesso per vincere, intanto, il nero ha perso la coppia degli alfieri, per vincere il pedone, se cattura di torre, è fregato, perché arriva l'inchiodatura alfiere in E3, se cattura di donna, arriva F5, e che cosa ha fatto questa semplice mossa? ha intrappolato definitivamente l'alfiere, per liberarlo, perché se no sta tranquillamente arrivando, H3, G4 che vince il pezzo, se G per F5, H3, alfiere in H5, e per F5, l'alfiere è di nuovo intrappolato, perché sta per arrivare torre in E4 con tempo, torre in H4, che intrappola l'alfiere, e poi c'è l'attacco vincente, e allora ritorriamo a noi, giustamente, il nero gioca a 5, si vuole intrappolare questo alfiere, arriva l'intermedia, H3, alfiere in D7, e adesso a 4, la partita adesso veramente si è fatta estremamente tattica, perché dopo B per A4, fa bene Topalov a non riprendere di alfiere, a giocare invece, alfiere in A2, come mai? Ritorniamo indietro, perché se alfiere per pedone in A4, cavallo in B6, libera la colonna, porta il nero in vantaggio, perché c'è la terribile minaccia, alfiere per cavallo, che non è protetto dal pedone, è un'illusione, il pedone è inchiodato sulla donna sospesa. Allora dopo alfiere in A2, alfiere in E8, e pensate, questa sembra una mossa logica, perché che cosa fa? Rende la colonna alla torre, ed è addirittura un terzo attacco sul cavallo in D4, eppure con E5, il bianco è passato in grande vantaggio. Per quel motivo? Perché la minaccia E6, prima o poi, è una minaccia fortissima. E allora, gioca il cavallo in B6, Shiro, questa minaccia a torre per cavallo, è un'illusione come prima, perché se torre per cavallo, arriva l'inchiodatura alfiere in E3, se non altro però, liberando la colonna C, e quindi inchiodando il pedone, non si può spingere subito in E6, altrimenti il nero cattura il cavallo con l'alfiere. E allora cosa fa Topalov? Spinge F5, attenzione, qui non solo, qui ci sono svariate minacce, ma quella più semplice, qual è? è giocare F per G5, quando il pedone ricattura, perché l'altro è inchiodato, la donna vince il pedone, inchioda l'alfiere, il pedone è inchiodato, praticamente, posizione disastrosa. E allora bisogna chiudere questa diagonale, arriva infatti, cavallo in D5, non solo chiude l'attacco dell'alfiere, quindi schioda il pedone, ma qui si minaccia di vincere il pedone in C3. E siamo al primo momento critico, veramente critico, di questa partita, perché il pedone si può anche difendere, ma bisogna scegliere se giocare torre in F3, oppure alfiere in D2. L'unica difesa buona è quella con torre in F3, una mossa però da computer, che non si riesce neanche a spiegare. Cosa farà Topalov? Giocherà purtroppo alfiere in D2, che sembra la mossa più logica, invece il nero ritorna totalmente in partita. Ritorniamo però indietro di una mossa. È vero che torre in F3, non si capisce qual è la differenza, bisogna calcolare 20 mosse, ma il grande errore di Topalov è che qui la mossa umana da giocare c'era, ed era F6. Dopo alfiere in F8, per trovare almeno uno sbocco per questo alfiere, arriva E6 con grandissime minacce e con grande vantaggio. E invece il bianco gioca alfiere in D2, cavallo in B4, qui si vede il grande attaccante, che cosa fa praticamente? Attacca l'alfiere e attacca la donna. Ma la donna non è inchiodata, c'è il cavallo, come mai allora Topalov non catturerà col pedone? Guardiamolo subito. Perché se C per B4, il nero passa in fortissimo vantaggio, donna per donna, il cavallo è costretto a ricatturare, la torre si riprende il pezzo, ma attacca, inchioda il cavallo sull'alfiere, la difesa più umana. Giocare torre in C1, iniziano a cascare i pedoni, e il nero si trova in fortissimo vantaggio. Poi oltretutto, dopo questa cattura, guardate che roba micidiale, si trova a dover fronteggiare il bianco. E allora, dopo cavallo in B4, se non altro si riprende il pedone, Topalov, donna che cattura in A4, cavallo per alfiere, Shirov gli ha tolto la coppia, la donna ricattura, ma non solo, perché il nero con alfiere che cattura in E5, ha un pedone di vantaggio, un pedone passato lontano. Allora, F per G6, il pedone H ricattura, alfiere in G5 attacca la torre, la torre viene centralizzata in D5, arriva a torre in E3. Ora, guardate, dopo 31 mosse, dopo tutti questi calcoli, chissà che stanchezza, Shirov non cade nella trappola, di voler guadagnare subito altro materiale. Guardate che sarebbe successo dopo alfiere per cavallo in D4. Il pedone C ricattura, e adesso come si ricattura? La ricattura di torre, prende matto, incredibile ma vero, perché arriva torre per torre in E8 con scacco, la torre ricattura, donna che cattura in F7 con scacco, supportata dalla torre, il re si esposta alfiere in F6, scacco matto. E dopo, scusatemi, e dopo alfiere per cavallo, e il pedone C che ricattura, se il bianco cattura di donna, donna in F2, che cosa fa? Minaccia lo stesso matto di prima, con la solita minaccia, e allora il nero è costretto a giocare F5, donna in G3, si minaccia torre in E6, le minacce sui pedoni iniziano a essere tante, e il bianco ha trovato il controgioco, probabilmente ha trovato anche la patta. E allora cosa fa Shirov? riposiziona i pezzi, donna in D6, donna in E2, alfiere in D7, arriva C4 che attacca la torre, e qui si assiste a dei cambi. Alfiere per cavallo, C per D5, alfiere per torre, la donna ricattura, torre in E8. Andava calcolata bene? Bella questa intermedia, perché la torre è più forte qui al centro, che stranamente dietro il pedone passato, c'è ancora da lavorare, prima di poter avanzare il pedone. Allora, donna sotto attacco, si porta in C3, attacca il pedone, ma la donna del nero cattura il pedone in D5, protegge il passato lontano, Shirov ha due pedoni di vantaggio. Sembra fatta, sembra fatta, ma non è così? Addirittura, il bianco avrebbe l'occasione per rimescolare un po' le carte. Topalov gioca alfiere in H6, con la minaccia di Matto, l'idea era quella, ma bisognava giocare alfiere in F6. Come mai? Perché l'idea è quella di giocare alfiere in H8 e poi il Matto, e ora qui il problema qual è? Che l'unica mossa veramente forte a disposizione del nero è torre in E2, ora qui il bianco deve trovare anche donna in G3, che non solo protegge, ma fa anche delle minacce, però arriva a C5, questo alfiere sarà una spina nel fianco, che oltretutto controlla delle case importantissime, anche difensivamente. Lo scacco di donna non serve a niente, perché il nero si difende con l'alfiere, supportato dalla torre, ora qui il bianco deve continuare a difendersi in maniera estremamente precisa, ma era la soluzione migliore. E invece alla 37esima mossa ha giocato alfiere in H6, torre in E5, quindi va a chiudere la strada alla donna per dare Matto, ancora più precisa sarebbe stata donna in E5, e allora torre in F3, come mai il pezzo inchiodato non è stato attaccato subito con torre in E1? Perché si poteva schiodare che torre per torre arrivava con scacco, stavolta invece torre in E3, torre per torre prende Matto, e allora donna in C5, naturalmente il nero cerca di cambiare le donne, donna in A1 non se la fa cambiare, alfiere in F5, torre in E3, ma arriva F6. E allora torre per torre, la donna ricattura, donna in A2 con scacco, donna in D5. Donna per donna con scacco, il pedone ricattura, siamo in un finale di alfieri e pedoni, ma con gli alfieri di colore contrario. E allora dopo alfiere in D2, che attacca il pedone, A4, alfiere in C3, che attacca e protegge, controlla entrambi i pedoni, la speranza di Topalov è quella di potersi difendere, grazie proprio alla presenza di questi alfieri di colore contrario, che non permettano all'attaccante di cambiare, non solo di cambiare, ma neanche di infastidire l'alfiere difensore. Quindi le possibilità di vincere si riducano. Allora qui il pedone, naturalmente bisogna proteggerlo. Quale modo migliore se non quello di avanzare, è otto e tutto il re. Re in F7, arriva H4, re in E6, re in G1, siamo all'ultimo momento critico di questa partita, alla mossa, che veramente ha stupito tutti i migliori commentatori, ed è l'incredibile alfiere in H3. questo sacrificio di alfiere ha reso questa partita immortale, è stata premiata come una delle più belle di tutti i tempi. Ora, che succede? A cosa serve questo sacrificio di alfiere? Questo alfiere, inutile per il nero, perché non può infastidire quello del bianco, viene sacrificato per fare cosa? Per l'invasione micidiale del re sulle case chiare. Allora, che succede se il bianco non lo accetta? Succede che se il bianco gioca a G3, per esempio, allora, se il re in F2, l'idea è proprio di cambiarlo sul pedone e continuare con il piano dell'invasione. Se arrivasse G3, il nero ugualmente invade, addirittura è pure rimasto col pezzo sulla scacchiera. Allora, tanto vale catturarlo, lo farà Shirov, pedone per alfiere in H3, re in F5. Allora, re in F2, re in E4, e ora che succede? Vedete, addirittura ha lasciato anche il pedone in presa. Se si tenta l'opposizione, guardate che succede, arriva a 3 e ora, se cattura, succede quello che succederà in partita. Questo non può avanzare, perché viene perso e poi anche l'altro viene bloccato. se alfiere in A1 arriva D4, l'alfiere non si potrà più muovere. Il bianco è praticamente in Zuzwang, mentre il nero inizierà ad avanzare il terzo pedone passato. E allora, dopo re in E4, cattura il pedone in F6 Topolov, ma D4 gli chiude la strada, il pedone sembra poter avanzare in contrastato. per la promozione, e guardate, il re bianco non entra nel quadrato, quindi il re non può difenderlo. Allora, alfiere in E7 per bloccarlo, re in D3, alfiere in C5, re in C4 attacca l'alfiere, alfiere in E7, re in D3, Topolov abbandona. Giochiamo qualche altra mossa. Come mai ha abbandonato? Perché dopo re in E2, il re sempre sulle case chiare, arriva in C2, controlla questa casa di promozione, e se questo avanza va a donna, allora ci vuole l'alfiere in B4, ma guardate che brutto, l'alfiere è sovraccarico lo stesso, arriva prima di 3 con scacco, re in E3, A3, è la deviazione micidiale che porta uno di questi due pedoni, perché se questo non cattura, avanza, e non può proteggere uno con alfiere in C3, perché c'è il re, quindi se questo cattura, D2, D1 donna, e uno dei due pedoni va sicuramente a donna. Quindi una partita complicatissima e stupenda, e che idea geniale questo sacrificio di alfiere, io questa partita me la ricordavo un po', ma sinceramente non l'avevo mai analizzata, l'ho riscoperta da poco, e è stato un grande piacere poterla portare qui sul canale. Scrivetemi che cosa ne pensate, se veramente è stato giusto dare un premio a questa partita, scrivetemi se la conoscevate o meno, io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, se la partita di oggi, che spero vi sia piaciuta, vi è piaciuta, non scordate di iscrivervi al canale, per aiutarmi a farlo crescere, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! A presto!